buongiorno canaglie questo video è ma che cazzo di luce dio ahhh così va meglio comunque vi dicevo la nostra idea era di fare un video ricordo dell'evento ma ci siamo dimenticati di fare dei video durante la festa quindi quello che possiamo fare ora è questo i want to kill everybody in the world i want to kill everybody in the world iscriviti al canale